Ci prendiamo la rivincita con il nascondino, con i consolini su Fortnite, dato che abbiamo perso malamente con Pinacoli, quindi questa volta riproviamo con Corso Commercio, che come città, lo sapete bene, è abbastanza più piccola di Tilted, di Pinacoli, quindi secondo me qualche chance in più con 7 minuti ce l'abbiamo, senza ombra di dubbio. Le regole sono sempre le stesse, loro non ci possono sparare, si devono nascondere, possono correre, ma hanno il limite di restare appunto dentro Corso Commercio, dopo 7 minuti chi non è morto ci potrà sparare e vince l'ultimo che resta in vita. Esatto, molto semplice. Quindi vediamo di impegnarci, Fede, l'importante è killarne subito 1-2 perché si spezza il loro morale e si alza il nostro, quindi l'importante è un buono start, la scorsa volta il morale non è stato buono. Beh scusa, comunque alzate abbiamo fatti pure i 4, eh, che sono pochi. Eh ma dopo un bel po', ai primi minuti 0, invece questa volta ai primi minuti voglio sentirti boom boom. Sembrare dei guerrieri, capito? Che fanno? Facciamo una cosa, spariamo in giro? No, perché tanto vedono il numeretto. Stiamo inseguendo, quindi diviene il palco. Ah, non credo. Eh, non mi sembra una buona tattica. Maledetto. Ma non sei brava. Era bellissimo. Prendessi un consolino a caso tra tutti quelli che stanno giocando avrei molta meno difficoltà perché tu sei scarsa sia a cercare che a nascondere, lo sa chiunque. Ma sì, vinco sempre. Ma se sono il campione. Ma non è vero. Sì. Ma se ti trovo sempre. Ma quando? Ormai sei diventato banale. Hai perso lo smacco, Steph. Ah, raga. Dai. Cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? Non sei più quello di una volta. Non ci provare. Sei cambiato, Steph. Non sei più brava a nascondere. Muoviti, va. Diventa un bravo cercatore piuttosto, no? Non ti devi nascondere oggi. Diventa bravo a cercare perché a cercare fai un po' schifo. Quello lo sanno tutti, quindi. Pensa a luttare, va. Ok. E non venire nella mia stessa casa. Ando in quella di fronte. Però mi sa che c'è altra gente. Sono caduti tutti qua. Infatti, dai, cambio caso, cambio caso. Perché se no poi luttiamo le stesse cose. Allora queste sono piene. Sai cosa devo fare? Che cosa? Un jetpack. E vabbè, beato. Non male. Sai cosa trovo? Le grante di impulso. Beato. Belle. Ok. Dai, adesso ho qualche arma. Ma io devo andare nella zona dei market. Tutte queste case sono prese. Altrimenti non ho nulla. Cambiamo. Ok. M16. Un po' di munizioni. Leggermente autozone. Quindi ci saranno circa 5-6 minuti. Dai, va bene. Ci arrangiamo. Ok? Sì, non ho un'arma. Non è un'arma? Sto girando. Steph è tutto lootato. Ma come? Eh, non me lo posso chiedere. Non lo so. Ehm... Anche qua i market li hanno fatti. Le stai trovando? No. Ce ne mette il cibianco da me? Volendo. Va bene, va bene. Però io inizio a partire, mi sa. Sì, sì, sì. Vai, vai, vai. Vado? Sì. Ok. Partizzi. Ok. Ma dimmi te la sfiga che c'hai te. Ma porca miseria. Ah, guarda, questa casa non è lootata, Ferre. Ah, ok. E no, perché avevo visto una persona correre su questo tetto. Evidentemente se n'è andata. Esatto. Però sì, l'ho visto. Ok, così mi arrivo un pochettino. Io mi sarei nascosto anche in questa zona. Quindi secondo me qualcuno potrebbe essere qui. Ok. Devo essere veloce per alzare il morale. Dimmi che hai trovato un'arma. Sì, ho trovato un fucile a pompa, quindi va benissimo. Ok. Vorrei preferito anche un M16. Ma vabbè, pazienza, dai, lascio così. Qui no. Io mi sarei nascosto, raga, tutta la vita. No, lì non c'è nessuno, ok. Qua sopra. Qua sopra. Tutta la vita. Ok, vado a cercare. Infatti c'era qualcuno? Sì. Ha provato anche a tirarmi una granata disperata. Fatto bene. Ok, è uno in meno. E vedi, questo già sul morale degli altri tocca parecchio. Allora, secondo me anche dentro i camion è una buona idea. Non è male. Io dentro un camion mi ci metterei. Quel nascondino era ottimo. Era davvero ottimo. Infatti l'ho pensato proprio per quello. Perché ho detto, cavolo, lì è geniale. E l'ho trovato proprio perché è geniale. Vedi, a volte i nascondini, i nascondini migliori sono i peggiori. Ok, questa casa non è lottata. Però non vuol dire niente. Potrebbero anche chiudere le porte. Magari una tecnica. Esatto, non ti fidare di queste banalità. Hai trovato qualcosa? Qui. No. Però c'è un cecchino leggendario qua. Sniperò tutti, Steph. Ma cosa? Allora. Li vedi solo mili. Non si sa mai. Quando poi ti devi difendere se non li trovi tutti. C'è anche un accesso nel tetto. Suppongo che il tetto non l'abbiano fatto. Quindi non ci perdo troppo tempo. Da fuori il tetto è rotto. Non si sono nascosti. Ferre, ne ho trovato un botto. Vai. Minimo due. E ora sono tutti in quella zona, accidenti. Mi sa che nelle case non si è nascosto nessuno, sai? Anzi, io le controllo, queste case. Perché non è detto che siano tutti lì, quindi. Ok. Stanno andando molto meglio. Dopo due minuti ne ho ammazzato tre. Ferre è completamente inutile. E vabbè, ha parlato. Tre. Lo scorso messo eri inutile tu. Allora, questa casa è luttata. Secondo me qualcuno ci si è nascosto qua, eh. Ok. E quindi, raga, ne mancano cinque. Sì. Beh, stiamo andando bene, però... Non ancora abbastanza da assicurarci la win. Chissà se c'è... Le case sembra che no, non le abbiano utilizzate. Questa rotta io mi ci sarei nascosta probabilmente in qualche punto. Non c'è frega nulla di dove ti nascondi. Aspetta, qua c'è anche il passaggio sotto. Giusto. Tutto terra è un bel posto. Lì sì che ti nascondi. Fai vedere. Raga, secondo me... C'è del C4, Steph. C'è del C4. Ok. Secondo me qua... Qui. Però... C'è un tipo in più. Un tipo che manca. Tipo qui. No. Va bene. No, no, no. Mi sono fatto io un viaggio mentale più grande di me. Ok. Niente. C'è nessuno, Steph. No. Qua non c'è nessuno. Cioè era un bait, magari al piano di sopra. Mi sta facendo venire un'ansia sta roba. Non c'è nessuno. Cioè c'era del C4 lungo tutte le scale e non c'è nessuno, Steph. Che è sta roba? Dal tetto? Che magari hai fregato con il C4 lì sotto? Niente. Niente. Va bene. Va bene. Va bene. Ci sono rimasta malissimo perché ero convintissima di averne trovato uno. Invece niente. Inutile. È inutile. Dai, c'era il C4 in tutte le scale che portavano al passaggio sotterraneo. È ovvio che vuoi a pensare che ci sia qualcuno. Invece non c'era nessuno. Evidentemente qualcuno che ha cambiato posizione. Che marchi ti hai fatto, Steph? Eh, un po' tutti. Quindi secondo me... Devi ritornare su le case che non hai fatto. No, le ho fatte tutte. Tipo il centro... Questo... Il coso dei tacos? Eh, sì. Un po' in mezzo alla natura? Eh, no. Quello no. In mezzo alla natura no. Però le case sì. Anche questa? Dove sono io adesso? Sì, le ho fatte tutte. Davvero? Giusto il tetto no perché non era rotto né da sotto né da sopra e quindi ho lasciato perdere. Controllo va, per sicurezza, ma... La vedo anche io. Sì, sì, infatti non c'è nessuna. Ti vedi. Bell'upgrade. Oh, non idea dove sono ficcati. Ovviamente, raga, ogni tanto mi tiro... Oh, ce ne sono due qua! Dimmi che hai killato anche l'altro. L'altro è scappato! Aspetta! Fermo! Ok. Fatti? Sì. Ok, ne mancano solo tre. Oggi sono passata venti volte qui di fronte e me li trovo qua nel cumulo. Vabbè. Sono bravi, te l'ho detto. È stato bellissimo, è stato bellissimo. Perché tu mi hai detto controlla la natura, quindi ho iniziato a guardare, capito, negli angolini più bui. Oh, mamma mia, ci sono spasciato un sacco di volte lì dentro. Secondo me è qua sotto. No. Sì, sì. No. Era un bel posto, però. Era un nascondiglio questo, sì. In effetti non vai molto a controllare lì fuori. Potrebbe esserci anche qualche cespuglio, comunque. Sì. Potrebbe esserci anche qualche cespuglio. È arrivata la zona. Guarda che comunque... È arrivata la zona. È arrivata la zona. Che facciamo? Ah, boh. Sa che restiamo. Dai, sì. Ti dicevo... Aspetta. Mi sembra di sentire del rumore. Anche a me. Di ferro? Sì. No, forse preveravamo noi. Hmm, come? Con l'auto, forse? Non lo so. Quanti ne mancano, scusa? Eh... Tre. Tre. Allora, aspetta. Gli avviso che possono sparare, vai? Vai, sì. Possiamo sparare. Quelli che sono vivi possono sparare, sì. Ok, Ferri, dovete andare anche al volo in zona perché non... Eh, il problema è che se andiamo al cratere, Steph, ce li ritroviamo alle spalle. Quindi buttaci un occhio. Eh, lo so, ma che fai? Cioè, mori di zona, altrimenti... Ah, qualcuno lo vedo qua. Ma non lo sparo, dai. Sei tu? No, è lui che spara, quindi... No, è un altro ancora. Uh! Lo vedo... Lo vedo gli ultimi due. Io mi sa che hai fallito fuori zona a sto punto. Ma qui c'è anche morto qualcuno, come? Uh! Dov'è l'altro? Sopra? Eh no, è dietro un albero. Vedi dove sto sparando? Quell'albero. Ah, ok. Ascolta, vado un attimo in zona, va? Sì, sto morendo, io ho 20 di vita. Cavolo, ce la farò? Uff! Uh, 15 di vita. Allora, dov'è? Non lo so. Dov'è? Mi sta venendo un'ansia? Io non lo vedo. Non lo vedo neanche io. E se fosse già dentro? Nel cratere, dici? Eh, magari non l'abbiamo visto. Beh, se fosse fuori sarebbe morto in zona. Come noi siamo così bassi, lo sarebbe anche lui, no? Eh, quello sì. E io mi sono spostato, Ferenza. Andando a cercare qualche cura. Oh, magari aveva tante cure e si è tirato un medikit qui nella cura. Le viene poi da continuare a nascondersi di istinto, perché giocano tutto il game a nascondersi, capito? È normale, è normale. Eh, lo so. Questo lo so che adesso sbucca all'improvviso e mi uccide, Stef. Sì, 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 come un film horror. Io lo so. Non può essere auto-zonfare, è impossibile. Sarebbe schiatato. Eh, tu sei nascosto dentro il cratere, allora? O magari stagionando nella nuova zona. Dovrei riuscire ad entrare dentro la zona. Ho avuto la fortuna di trovare un medikit. E tu mi sa che schiatti di zona, vero? Mi lasci uno contro uno? Ho visto un lama! Eh, salutalo. L'ho visto anche sopra la montagna, bellissimo. Ok. Sì, io penso di morire di zona, Stef. Non avrò l'onore di capire dove si è nascosto, capito? Beh, quello neanche io, perché nel caso lo dovrò affrontare uno contro uno, ma mi cazzo dove si è nascosto. Sì, ma anche ora dov'è? Dov'è? Non lo so. Dov'è? È quello che ti sto dicendo. Non tanto nascosto, dov'è? Non ho idea. Dov'è? Non ho idea. Cioè, dove è finito? Io non ho neanche un bell'armamento, però magari è anche lui insieme a te lì, fuori zona. È dietro di me! È dietro di me! Ho sentito i poteri! Devi fightarlo! Attenzione! E ce la fa! E ce la fa! Ho scelto un botto di roba, aiuto! E ce la fa! E ho 15 divisa! Vabbè, 50 di scelto pure io ora. Allora, non ce l'abbiamo fatta neanche con Corso Commercio a trovarli tutti e sette, però non abbiamo avuto sette minuti, abbiamo avuto cinque minuti perché è arrivata la zona a cinque minuti tondi. Comunque, ok che mi hai sbocato dietro, ma dove accidenti erano? Non ho idea, non ho idea. All'inizio era insieme al compagno, quando io ho buttato giù a terra il primo, lui era lì, quindi poi da lì non so come ha fatto a scappare senza farsi vedere. In ogni caso, questa volta ce l'abbiamo fatta, qua sotto compariranno altri video, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina se non avete ancora fatto per non perdervi nessun altro video. Ci fermiamo così. Ciao ciao!